Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelto. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Andiamo. Andiamo. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così... E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci... Senza allontanarti. Sì. Certo. Sali e vedi se il campo è libero. Un attimo. C'è una pattuglia là davanti. Sì. 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 A posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori, finalmente. Su di qua. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui era Mirez, settore 12. Richiedo prelievo per tre vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Scusi! Scusi! Cazzo! Pensavo le avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Gesù Cristo. Pensi che Marlin ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infettata. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo, Nicometti. Sei infettata. È di tre settimane fa. No, si trasformano tutti in due giorni. Basta cazzate. A tre settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non mi frega un cazzo. Non mi frega un cazzo. Adesso. Via. Via! Vai! Vai! Sprigati! Guarda! Ho due soldati morti. Dietro di me. Presto. D'accordo, Ellie. Al mio segnale, corriamo. Al segnale? Corri. Capito. Ora. Corri. Stai lontana dalla luce. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì. Le maledizioni sono ovunque. Soprattutto, là. Li vedo, li vedo. Devono essere passati. Controllate il canale. Rimanete indietro. Rimanete giù. Forza, ragazza. Segui Gio. Rimanete giù. Vedi niente. Io lì. Come va, ragazza? Allora, tutto bene. Ok. Ok. Mi sento là davanti. Soprattutto, la trupparsi. Soprattutto, giù. Buoncini! Passati! Buoncini! Grazie a tutti. 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 Un'altra pattuglia. Giù. Vieni, Joey. Arrivo. Sono davvero tante qua fuori. E come facciamo a superarli? Non si sono ancora accorti di noi. Facciamo il giro. Com'è? Sono troppi. Tess. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Ho visto qualcosa. Fatti le vere. Oh, merda. Ci stanno poco. Prova a distratti. Ok. Vedo altre luci. Merda. Ok. Attira il bastardo! Mi serve aiuto! Mi serve aiuto! Ha uno stagio! Grazie! Tirco al diangolo! Oh maschi! Ossi mi uccidi! Non mi uccidi! Ossi mi uccidi! Ossi mi uccidi! Ossi mi uccidi! Cosa si mi uccidi! Ossi mi uccidi! Ahm! Grazie. 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 Sì, sembra giusto. Stai vicino. Almeno non piove più. La situazione? Potremmo passare di qui. Merda, merda, altri soldati! Il reglio è ancora libero. Riterrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Rimanete all'inombra. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta? No. Ci sono ancora. Approfittane per riprendere piatto. Joel, vedi se c'è niente di utile. Agli ordini, boss. Allora. 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 Grazie. Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Stai molto vicino a me. Ok. Wow, wow, aspettatevi! Cesaro. Dai. Bene sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sei mai sentita, eh, Tess? È che... Quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo! Non l'ho chiesto io! Neanche io, Tess. Che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel. Siamo arrivati fin qui. Andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori. Ho capito. Ciao. Allora. DovKA Grazie a tutti.